E' stato ritrovato il corpo senza vita del pilota del caccia militare Eurofighter del 37esimo stormo precipitato nella serata di ieri mentre stava facendo rientro alla base di Trapani-Birgi. Ancora da individuare le cause, avviata da parte dell'aeronautica militare un'inchiesta di sicurezza del volo. Il militare deceduto è il capitano Fabio Antonio Altru da 33 anni di Caserta. La sua salma è stata recuperata intorno alle 2 di notte dopo intense ricerche. Il ministro della difesa, Crosetto, ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia. L'Eurofighter è precipitato a 5 miglia dalla base trapanese in una zona agricola. Il capitano Altru da era un pilota esperto con centinaia di ore di volo alle spalle, molte effettuate in operazioni in atto. Stava cominciando la procedura di avvicinamento per atterrare all'aeroporto militare quando l'attore di controllo ha perso il contatto. Erano circa le 18. Subito si è levato in volo un elicottero dell'82esimo reparto SAR per coordinare le ricerche dall'alto. Sul posto, oltre a forze dell'ordine, ambulanze e vigili del fuoco. È arrivato anche un team di specialisti dello stormo. Il velivolo si è disintegrato durante l'impatto con rottami infuocati trovati anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro. L'aereo, un typhoon caccia intercettore multiruolo in versione monoposto, tornava da una ricognizione nell'entroterra dopo una missione addestrativa durata forse circa un'ora con un altro Eurofighter che ha invece fatto ritorno allo scalo militare.